Ciao, bentrovati e bentornati nel canale di Patrizia. Oggi sono qui per parlarvi dei miei preferiti di questo inizio di autunno. Autunno, io so ancora così, a Roma ci sono 30 gradi ancora di massima, fa davvero caldo durante la giornata, però l'autunno arriverà e quindi ci prepariamo. Vi parlo di un po' di scoperte, di novità, di acquistini e di vecchi amori che sono adatti a questo momento. Per la cura della pelle e per la cura dell'anima c'è anche una cosa molto particolare. Ma iniziamo subito con un prodotto che mi è stato inviato da Sleep & Glue. Ve lo ricordate? Sì, ve lo ricordate perché già ve l'ho fatto vedere. Lui è il Cuscinomia ed è un cuscino specifico per aiutare il viso a prevenire l'invecchiamento con il sonno. Sappiamo tutti che il sonno è una delle prime cure di bellezza. Bisogna dormire almeno otto ore a notte. C'è tutto un rito che si può seguire prima di addormentarsi. Ma questo Cuscinomia, di cui vi ho già parlato per quanto riguarda la sua anatomia, ma lui in particolare ha una novità, con la sua forma particolare aiuta il viso a evitare che si formino durante la notte dormendo le pieghe del sonno. Perché ha un incavo che accoglie il tuo viso e evita che appunto si formino le pieghe del sonno, che con il passare degli anni poi diventano rughe profonde. Le rughe del sonno sono rughe diverse dalle rughe di espressione. Sono principalmente rughe verticali. Spesso appunto incidono molto sulla parte delle rughe nasolabiali, creando ulteriore aggravamento di queste rughe. Un cuscino del genere ti aiuta a risolvere questa problematica se tu hai la tendenza a dormire sul fianco, come me ad esempio. Ma ti aiuta però anche a dormire meglio se dormi a testa in su. E ti dirò di più, perché vedi ha una forma anche qui particolare, che proprio accoglie la tua nuca e la protegge e la ripara, favorendo una giusta piega del tuo arco cervicale. Ti dirò di più che questo cuscino, anche se tu dormi sul fianco, per come è fatto, ti spinge poi a dormire a testa in su, che è la posizione in assoluto migliore per mantenere la giovinezza del viso. Lui è nuovo perché ha una federa, il cuscino è lo stesso, ma la federa è nuova. Sembra quella che vi avevo fatto vedere l'altra volta perché è molto molto setosa, ma in realtà questa è una federa in tencel con filo intrecciato di rame. La novità appunto di quest'autunno di slip and glow è che questa tipologia di federa risolve ulteriori problematiche della pelle. La fibra di rame, soprattutto intrecciata nel tencel, che è una fibra naturale, fa sì che la pelle possa guarire anche dai problemi dell'acne, dell'impurità e aiuta molto le pelli delicate a combattere le infiammazioni appunto della pelle, perché il rame neutralizza le irritazioni e le infiammazioni. Quindi se hai anche problemi di pelle delicata, che si irrita molto facilmente, o di acne, questo cuscino con la federa in rame è quello che fa per te e mantiene tutte e tutte le prerogative del cuscino classico, che comunque si trova sempre anche la federa in seta, che è quella appunto che accompagna il cuscino diciamo classico, ma ti dirò, io lo sto provando da un po' di tempo, amo anche il cuscino con la federa in seta, quindi ora ne ho due, ora sto testando questo, comunque l'ho testato nelle ultime due settimane, la sensazione è la stessa, quindi la seta evita l'effetto crespo nei capelli e rende la tua pelle appunto setosa. Il cuscino in rame ha lo stesso effetto. Ora io per fortuna non ho il problema dell'acne, anche data la mia veneranda età non ho problema di acne, però devo dire che la sensazione è davvero piacevolissima, quindi io te lo consiglio e oltretutto ci sono gli sconti che sono aumentati, quindi con il mio codice sconto PATRIZIA20 ti metto tutto nella info box e lo sconto su questo cuscino OMIA sale a 20 euro, che non è poco, poi c'è anche il codice sconto per tutto il resto, per gli altri prodotti di Slip & Glow che sono tantissimi, ci sono diversi accessori, quindi vai a guardare, grazie Slip & Glow. Allora andiamo avanti, ti faccio vedere gli altri prodotti di bellezza e di cura per la pelle e poi per ultimo un prodotto per l'anima. Cosa sarà? Beh, aspetta fino alla fine. Allora, prodotti per la cura della pelle, con cui mi sto trovando bene, poi ti faccio vedere anche dei profumi, sono questi due, che per me sono una bomba. Per il corpo e per il viso, quest'olio, e per il viso, collo, decolleté, questo altro. Allora, questa è una crema che ti ho già fatto vedere, ed è DMTJ, si chiama DN4D, TAN 365 giorni. È una crema, un fluido per il viso, attivatore di melanina, quindi aiuta a mantenere il colorito della pelle, anche dopo che è finita l'estate. Io l'ho utilizzato per tutta l'estate, comunque anche quando andavo al mare, non ho bisogno io di attivare la melanina, perché ce l'ho di mio, però mi ha aiutato a fare un'abbronzatura, comunque ho notato la differenza, più luminosa, più calda, e ora sto continuando comunque ad usarla, anche se sono più di tre settimane che ho ripreso a lavorare, quindi ormai la mia abbronzatura è finita. Questo che tu vedi è il mio colore, diciamo, naturale. Insomma, quel poco di abbronzatura che mi è rimasto, ma che rimane comunque bello e luminoso. Io lo metto in tutta questa parte, a volte anche sulle braccia. Ha un profumo meraviglioso questa crema, davvero fantastico. Si assorbe immediatamente, è anche un formato grande, sono 100 ml, quindi mi durerà ancora un po', ne basta poco. E io questo l'ho presi nella profumeria La Closerie Salotto Olfattivo, che si trova a Ostia, però hanno il sito anche online, che è una profumeria di nicchia. Quindi vende anche prodotti cosmesi un po' particolari. Te lo straconsiglio, ti lascio sotto tutte le informazioni. Veniamo a un prodotto della grande distribuzione, molto economico, che è una bomba, credimi, io lo sto amando. È un olio per il viso, di equilibra, ed è l'olio al karité. Questo olio, che ormai è agli sgoccioli, io lo utilizzo nelle mie classi di yoga facciale dal vivo. Non so se lo sai, ma io ho iniziato a insegnare anche in palestra. Non troppo spesso, perché non ho la possibilità, per i miei impegni, di prendere una classe. E infatti mi dispiace anche molto. Però quando posso, ogni tanto nel weekend, oppure vado a fare qualche sostituzione, cerco di mantenere, insomma, questo legame. Mi piace molto, tantissimo, il contatto dal vivo con le persone. E siccome lo yoga facciale è una disciplina relativamente nuova, quando capita una persona, appunto, nuova, che non ha l'olio per il viso. Quindi io lui lo tengo sempre con me, perché fornisco il mio olio per il viso, quando iniziamo a chi non ce l'ha. È un olio economico, perché questa bottiglia, sono 120 ml, su Amazon la trovate a meno di 5 euro, ed è fantastico. È un olio multitasking, si avvicina un pochino come consistenza all'olio di Argan. Quindi è adatto per le pelli mature, ma non è eccessivamente denso, quindi si assorbe facilmente, è perfetto per la lezione. E io, quando sono in palestra, faccio lezioni di un'ora, quindi lavoriamo parecchio. Ma si può utilizzare anche per il corpo, anche come impacco per i capelli. Io lo uso dopo la doccia, lo uso al posto del contorno occhi, lo uso per tutto, ed è spaziale. davvero spaziale. Oltretutto ha un inci molto, molto buono, perché ha il 99% di ingredienti naturali, e quell'1% è il conservante. E un pochino di profumo, te lo dico, perché magari potrebbe non piacerti, ma il profumo è fantastico, è buonissimo! Il dono della sintesi non mi appartiene. Allora, andiamo ai profumi che ti consiglio per questo inizio dell'autunno. Dunque, ho ritirato fuori, li ho messi proprio lì sul mio comodino, questi due gioiellini. due fasce di prezzo diverse, due effetti bomba, entrambi. Io li trovo davvero deliziosi, soprattutto per la stagione autunnale. Sto parlando di profumo all'olio di Argan, per restare un po' in tema di oli, di Erbolario, di lui, ve ne ho parlato, credo, un annetto fa, quando ho comprato questo profumo, e poi di Puttende Palace, di Eldo Etalibre d'Orange, questo profumo di nicchia. Quindi anche qui, due fasce di prezzo molto molto differenti, due mercati diversi, ma due profumi davvero spaziali. Iniziamo con Erbolario. Allora, il profumo all'olio di Argan è davvero un profumo gourmand, però io lo trovo non disturbante. Io e i gourmand abbiamo un rapporto un po' di odio e di amore, non sono una grande fan dei gourmand. Questo è uno dei pochi gourmand reali, veri, che davvero amo. Allora, ha note di nocciola, note di vaniglia e note di Argan. Sembra un po' un pasticcino croccante. L'argan ha questo odore, l'olio di Argan ha questo sentore un po' di nocciolina dolce e lui ha in più questa nota di vaniglia, lo spruzzo solo di qua, perché poi di là metterò, tra l'altro si integrano molto bene, da quest'altro lato metto l'altro profumo ed è un profumo delizioso, molto molto carino, economico appunto. Mi piace molto questo color beige e questo tappo nocciola essenziale, minimalista ed ha una potenza ma pazzesca, perché la durata di questo profumo su di me fa anche 10 ore, anche 12, sui vestiti dura giorni e giorni. è un giunghiellino, cioè Argan veramente, Argan, l'erbolario quando si impegna fa delle cose meravigliose. Io non ho sentito le ultime uscite di erbolario, fatemi sapere che ne pensate, non sono ancora andata in negozio a sentirle, mi ha un po' disturbato l'uscita che hanno fatto con Notte a Tangeri, che è un profumo che magari sarà diverso nella composizione, però ha ripreso paro paro il titolo di un profumo di Denise de Dearte profumata, tra l'altro io il suo Notte a Tangeri ce l'ho e mi dispiace molto per questa cosa, anche perché erbolario non ha bisogno di questo. Comunque, all'olio di Argan io te lo straconsiglio. Veniamo a lui, al Putain de Palas, che è un profumo molto femminile, il nome, un nome, un programma richiama le atmosfere, vuole richiamare il profumo di una donna, di una maîtresse, quindi una di quelle donne fine ottocento che lavora in quel campo e che si veste un po' da Cocotte, che ci tiene molto al suo aspetto e che evoca il profumo di una pelle erotica. È un profumo erotico, sensuale, molto femminile che vi fa venire in mente l'odore di una pelle molto curata in quel contesto. Già da qui, mamma mia, io lo adoro, perché questo è un mix di muschio animalico, di dolcezza, non mi ricordo se c'è la violetta, ma comunque l'odore della violetta io lo avverto, di pelle scamosciata, di pelle umana, io lo trovo stupendo, di un'eleganza, il Potente Palace veramente pazzesca. L'ho usato anche poco, bisogna che lo cominci ad usare, perché poi i profumi tenuti qua nei cassetti o come soprammobili, no, non va bene, avete visto che io compro meno profumi, sono diventata davvero molto molto voglio usare le cose che ho, perché davvero è un peccato accumulare, io ne ho tanti, ne ho tantissimi, quindi io anche sono una collezionista seriale, però nell'ultimo anno credo di aver acquistato due profumi, diciamo là, ok, Putende Palace è un mio grande amore e te lo straconsiglio. Veniamo al regalo per l'anima, questa è una cosa molto particolare, ma se tu mi conosci già da un po', saprai della mia passione per le carte divinatorie, i tarocchi e gli oracoli. Ho acquistato questo bellissimo cofanetto di tarocchi, ma sono dei tarocchi particolari, di Phyllis Curot, si chiamano La Saggezza della Strega, tarocchi e guida con un mazzo di carte di 78, illustrazione di Daniel Barlo. Allora, sono dei tarocchi, ma non sono dei tarocchi standard, quindi hanno la stessa struttura delle carte dei tarocchi, quindi con gli arcani maggiori e gli arcani minori, con i semi, però qui i semi sono gli elementi e gli arcani maggiori non sono proprio identici a quelli che noi conosciamo del tarocco di Marsiglia, che è quello classico, o il rider white, quindi il mato, la ruota della fortuna, la morte, l'appeso, eccetera, no? si avvicinano, ma c'è un'interpretazione in chiave wicca. La wicca che cos'è? È lo studio della... è la religione, perché è una religione dal punto di vista spirituale pagana che è seguace della stregoneria, tra virgolette, quello che in inglese è detto witch, wicca. Phyllis Kurot è una scrittrice, studiosa, storica, appassionata ed è di wicca ed è una delle prime forse rappresentanti donne che ha affrontato lo sciamanesimo al femminile, i circoli, l'apertura e la chiusura del cerchio. Lavora da, credo, 40 anni ed ha appunto un suo sito, ha creato il Tempio di Ara, insomma è molto molto prolifica, io sto anche leggendo un suo libro e quindi ho voluto prendere questi tarocchi perché ultimamente mi sto interessando, incuriosendo, mi sto avvicinando molto anche a queste discipline esoteriche, mi piace leggere di wicca, ma che cos'è la wicca? È celebrare la natura secondo i riti antichi pagani, quindi i sabba che sarebbero ad esempio ora siamo in autunno, ogni stagione ha una sua ricorrenza, ma bonimbo, eccetera 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 ora però dobbiamo stringere, vi devo far vedere questa meraviglia. Questa è la guida che è un vero e proprio libro che vi spiega il significato delle carte e quindi il meccanismo della divinazione è lo stesso dei tarocchi quindi si possono fare le stese come volete, tirar fuori una carta, tirare fuori tre carte, fare la croce celtica eccetera e però la differenza è che qui ci sono elementi della natura quindi i semi sono qui gli elementi aria, acqua, fuoco e ad esempio qui abbiamo il tre di acqua qui abbiamo uno degli arcani maggiori che è la grande madre guardate che meraviglia questi disegni sono stupendi qua c'è la dea del fuoco che è appunto una strega il nove di terra questi sono dei lupi in un paesaggio polare il dieci di fuoco ovviamente ognuna di questi semi ha un significato ogni numero ogni carta ha un suo significato questi sono gli arcani minori questo è un arcano maggiore la sacerdotessa sono stupende meravigliose io le colleziono come opere d'arte però poi ogni tanto le uso anche per la mia divinazione questo è un melograno cos'è il nove di fuoco l'otto di acqua sono mescolate ovviamente perché le usate l'undici di equilibrio questa è una nonna seguace della wicca con la sua nipotina e con vari elementi vedete l'orso ci sono diversi animali c'è la volpe che le comincia a spiegare qualche forse si prepara qualche rituale vedo che raccoglie qualche foglia la dea della terra sono una meraviglia questi sono credo tra i tarocchi più belli che io abbia e ti devo dire anche che poiché sono così diversi e quindi non hanno quella struttura rigida che ha il tarocco di marsiglio rider white sono adatti anche a chi non sa nulla di tarocchi ci puoi giocare ti puoi far aiutare comunque dal libro non sei così vincolato nella interpretazione di queste carte bene questo video si conclude qua questo è tutto io ti auguro di vivere un autunno sereno di ritornare dentro di te di riscoprire la tua essenza di abbandonare tutto quello che non ti serve più un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao